Posso utilizzare proteine di varia natura mischiandole? Ciao Andrea, alimenti proteici differenti hanno strutture differenti, per questo possono essere digerite con meccanismi differenti tra loro. La digestione del nostro apparato digerente però non è vincolata a un tipo di proteina, ma molto spesso allo stato di salute generale del nostro apparato digerente. La nostra digestione più o meno complicata in realtà non è data dal tipo di proteina inserita o dalla combinazione tra loro, ma molto spesso dal quantitativo di cibo ingerito in quel pasto e anche dal tipo di cottura e dal momento della giornata nel quale noi andiamo a mangiare. Quindi non mescolare proteine di diversa origine può essere in linea teorica generale una buona indicazione da rispettare nella maggior parte dei pasti, ma se questo fosse vero l'uomo del paleolitico non avrebbe potuto evolversi in milioni di anni perché mangiava quello che raccoglieva e quello che trovava o quello che cacciava e dall'altra parte la nostra penisola italiana e i nostri chef non potrebbero cucinare molte delle nostre deliziose ricette.